Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutti i prodotti che ho acquistato dell'ultima collezione di Chicco, l'Arctic Holiday. Praticamente è la collezione che è uscita in edizione limitata dedicata al Natale. Io ho fatto un primo salto da Chicco e ho acquistato alcuni prodotti, se non sbaglio sono 4 prodotti, però ho intenzione di acquistarne qualcun altro perché alcuni prodotti non erano disponibili ancora e alcuni prodotti diciamo che li ho visti però non volevo acquistarli subito anche perché voglio aspettare perché ci sarà a fine mese comunque anche il Black Friday e quindi voglio aspettare per vedere se c'è qualche sconto e ho preso i prodotti che comunque mi hanno incuriosato di più e ho messo tutto in questa bustina di Chicco, come sempre trovate il link dei prodotti con le prezze giù nell'infobox, adesso vi mostro comunque gli swatch e vi dico quali sono le mie prime impressioni e niente iniziamo. Diciamo che uno dei primi prodotti che mi ha conquistata subito è uno di questi ombretti, in realtà ne avrei voluto prendere anche un altro che dava sul dorato, questi ombretti si chiamano Metal High Shadow, all'interno ci sono 2,5 grammi di prodotto, hanno 18 mesi di pau, io ho preso lo 02 Burgundy Aurora, praticamente di quelle colorazioni che mi piacciono tantissimo a me che sapete che utilizzo tantissimo e quindi non potevo non prendere. Il packaging esterno è davvero molto carino perché praticamente riprende comunque il mood della collezione perché praticamente è quasi come se fosse un po' olografico e poi sa proprio di artico perché ho questo grigio che ha tantissime sfumature quando voi lo mettete alla luce, davvero molto carino anche il packaging. Come vi ho detto sicuramente prenderò altri prodotti però adesso mi sono un po' limitata, diciamo così. Il packaging comunque è fatto così quindi è un ombrettino che ha la cialda con una forma un po' geometrica, è un ombretto metallizzato, sapete che vanno tantissimo adesso gli ombretti metallizzati ma anche in generale nel make up va tantissimo il metallizzato e quindi quando l'ho visto l'ho preso subito. Diciamo che ho quasi paura di utilizzarlo perché la cialda è davvero molto carina come è fatta però diciamo che lo utilizzerò senz'altro senza problemi perché comunque l'ho acquistato per quello e la colorazione è questa, quindi come vedete è un borgogna metallizzato, è il classico borgogna però ha questo, non lo so, questo tono così metallizzato cangiante, molto luminoso, quindi di quelli che piacciono tantissimo a me perché sapete che a me non piacciono tantissimo quelli glitterati ma quelli così luminosi metallizzati mi piacciono tantissimo, mi piace proprio nella palpa per vedere questo metallizzato, come si muove la palpa, però non lo so, mi piace tantissimo. Poi ho preso due prodotti che sono gli holographic highlighter appunto degli illuminanti olografici e ho preso due colorazioni, ho preso la 01 White Snowflake, hanno comunque questi 18 mesi di Pau e all'interno ci sono 3,5 grammi di prodotto, sapete che mi piacciono tantissimo gli illuminanti molto particolari e quindi quando li ho visti sono impazzita perché mi piacciono tantissimo, questi sono molto molto particolari, soprattutto questo. Anche questo c'è la stessa cialda come l'altro però è leggermente più grande rispetto all'altro perché comunque ci sono più grammi e la colorazione è questa, quindi come vedete è appena accennato però comunque si fa notare, è come se fosse proprio un velo di colore olografico che vi rende il look molto particolare, di quelli che mi piacciono tantissimo a me e che ha comunque la tonalità, sembra quasi un bianco però che ha questo violetto al di sopra, non lo so, molto particolare, sapete che mi piacciono tantissimo, io impazzesco per quelli di NYX che sono molto particolari, quelli che sono non sono olografici ma sono duochromatic, ce ne sono 6 in commercio, io ogni ho 3, quindi sapete che questi così mi piacciono tantissimo. E poi ho preso un altro illuminante che è sempre molto particolare, si chiama 02 Stary Gold, questo inizialmente non lo volevo prendere, però l'ho preso anche per il fatto che non ho preso l'ombretto dorato perché questo è molto particolare, però non so se effettivamente lo utilizzerò come vero e proprio illuminante, ma forse posso utilizzare anche lì sopra di alcuni ombretti per illuminare, quindi al centro della palpebra, lo pensate in questa maniera, comunque la colorazione è questa, quindi è un, sembra così secondo me più che dorato quasi un oro rosa, non lo so, mi dà tantissimo l'idea di quello, anche se poi effettivamente suocciato è proprio un oro, comunque la cialda è come l'altra, visto così sembra quasi un oro rosa, però poi se voi lo vedete suocciato lo vedete che è comunque dorato. Sì, sicuramente l'ombretto è molto più forte, è molto più pigmentato rispetto a questi illuminanti qui, quindi sicuramente puoi prendere anche l'ombretto, perché è metallizzato, come questo però dorato, però li ho voluti prendere entrambi perché questo lo utilizzerei come fiato e tracciato della palpebra e magari nelle giornate un po' vicine a Natale, nelle serate vicine a Natale, dove utilizzo così sempre anche un look un po' doratino, così mi piace tantissimo per le feste di Natale e poi essendoci tantissimi rossetti e alcuni molto particolari, alcuni ce ne sono anche matte, ho voluto prendere questo, questo si chiama l'articolio di metal lipstick, quindi un rossetto metallizzato, all'interno ci sono 3,6 grammi di prodotto a 18 mesi di PAO e ho preso la colorazione numero 04, che mi sembrava quella, non sarà quella che mi convinceva di più, il packaging è leggermente diverso rispetto agli altri prodotti perché questo è rosso, non è metallizzato, come quelli degli illuminanti che è dorato, pur sempre olografico come quello degli ombretti però che danno sul dorato, mentre l'altro dava un po' sul bianchino, questo invece ha classica colorazione rossa, anche questo è olografico, però questo sa tantissimo diciamo di Natale, diciamo che il packaging vero e proprio del rossetto mi ha lasciato un po' così perché comunque il classico packaging che mette Kiko soprattutto nelle collezioni nata ITZ, infatti l'anno scorso era uscito così, però che era tutto rosso, quindi diciamo che quello mi ha lasciato un po' così, avrei preferito un packaging un po' leggermente diverso, soprattutto per me che faccio la collezione, quindi per avere un qualcosa di diverso, e la colorazione è questa, è un rossetto molto particolare, non so quante volte lo utilizzerò perché praticamente è un grigio che ha del violetto comunque all'interno, però adesso voglio vedere comunque come mi sta sulle labbra, è molto particolare, non è troppo coprente, e la colorazione è questa, cioè è coprente, però è come se fosse appena appena impalpabile, non come se fosse uno di quei colori che proprio voi lo passate e vi fa subito il contorno delle labbra e di quelli che secondo me bisogna fare più passate, però è molto luminoso, si vede che è metallizzato, è molto particolare, infatti è quello che mi ha colpito di più, poi inoltre guardate come è fatta la cialda, lo stick, è molto particolare, sembra quasi spezzettato come se fosse un diamante, non lo so, sembra quasi che uno non dovrebbe utilizzarlo per quanto è molto carino, e niente, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa avete preso voi, se avete preso già altri prodotti di questa collezione, se li avete già provati come vi state trovando, se è piaciuto il video mettete in piace e a presto, ciao!